ok ciao a tutti buongiorno ben ritrovati nuovamente sul canale oggi è sabato auguro buon inizio weekend a tutti quanti e sono qui oggi in compagnia di natan never lo potete vedere anzi in compagnia del numero 1 di natan never del primo grande albo di questo personaggio fantascientifico che ormai da 30 anni insomma esiste nelle edicole italiane e questo è un video alquanto importante per il sottoscritto perché segna l'inizio del mio percorso alla scoperta cronologica di questa testata perché come probabilmente sa chi abitualmente segue i miei video perlomeno quelli relativi a natan never io ho approcciato tale testata da circa un due anni a questa parte comprando i numeri che regolarmente escono in edicola tutti i mesi e nel frattempo girando per i mercatini ho avuto modo di trovare molti albi usati anche a poco prezzo dal momento che come ben sappiamo natan never è un fumetto che si può trovare davvero a pochissimi centesimi addirittura nell'usato li trovate se avete fortuna insomma a neanche un euro l'uno per cui insomma è una testata relativamente semplice da trovare ma non l'avevo mai approcciata in ordine cronologico quindi mi ero limitato diciamo così a trovare nei mercatini qualche albo sparso a singhiozzo ecco e quindi non avevo avuto mai avuto finora una visione completa potremmo così dire della della serie che è una delle testate bonelli con più continuity no assieme ad ampere assieme a dragonero che però sono fumetti successivi drago natan never è stato probabilmente il primo fumetto bonelli con dotato di una continuity abbastanza intensa ecco che si amplia non solo negli albi della serie regolare ma spesso e volentieri riguarda anche gli albi speciali no quindi le testate extra potremmo così dire io qua ho il primo incontro tra martin mister e natan never ma in realtà ci sono tanti altri speciali che io nel corso del tempo recupererò tutti quanti insomma a seconda di che cosa avrò modo di trovare o di così di beccare ecco in giro permettetemi il termine prima di iniziare così la la panoramica ecco molto informale su questo primo numero volevo ringraziare un po di persone che mi sono state di fondamentale aiuto per questa conoscenza che sto maturando nei confronti del personaggio innanzitutto saluto e ringrazio giuseppe che mi ha voluto regalare diciamo questa copia del numero uno questa è una ristampa del 2018 appartiene a quel periodo in cui la la bonelli da quello che sono non ho grande memoria in merito aveva operato diciamo delle delle ristampe quasi anastatiche sui primi dei dei primi numeri insomma delle varie serie abbinandole a delle cartoline con auguri sonori ecco giuseppe mi ha donato anche questa cartolina che io avevo mostrato nel nel video in cui vi avevo aggiornato diciamo sui recuperi nata neveriani adesso non ce l'ho qui a portata di mano però era diciamo si completava ecco questa iniziativa anche della cartolina che era un'idea così molto molto simpatica se vogliamo quindi questa sarebbe la ristampa del 2018 come reca questo questo strello potremmo così dire questa fascia ecco in copertina assomiglia un po a la fascia dei bis no che abbiamo avuto così in in edicola quest'estate e tra l'altro proprio il bis di nata never si va effettivamente un po a reinserire in in quest'albo ci sono delle citazioni o infatti questo inizio con nata never e climan che scopre poi nel corso di questa storia essere un ricordante mi ricordavo appunto di questa di questa introduzione perché grosso modo era stata citata nel bis di nata never qui peraltro compare un personaggio ishimori che appare effettivamente anche nel nel bis ecco quindi a me lì risultava completamente sconosciuto qui ci ho capito qualcosina in più perché ho finalmente compreso da dove derivasse l'ispettore ishimori che poi insomma sembra addirittura far parte della yakuza quindi sembrerebbe un non proprio un ispettore limpido e cristallino potremmo così dire che comunque compare in questo primo grande numero di nata never ma oltre a giuseppe voglio ringraziare anche alex che è già proprietario adesso di un canale youtube dedicato alla celebre cantante lisa stanfield ma che insomma presumibilmente da quanto ci ha anticipato ecco a me e a qualche altro amico presto si lancerà anche lui nell'idea diciamo di un canale youtube incentrato sul mondo nata neveriano e noi lo aspettiamo con ansia perché lui è veramente molto esperto della testata essendo un lettore storico e mi ha spiegato molte cose su su nata never e per questo lo ringrazio ma ringrazio anche roi emanuello proprietario di dell'omonimo canale e anche jacopo del canale iaio 85 che anche loro sono stati fondamentali diciamo per la mia il mio appassionarmi ecco alla testata di nata never e anche semplicemente mad mitch anche lui grande lettore di nata never e tanti altri per cui nonostante si parli spesso diciamo ecco negli ultimi anni di un continuo declino della testata di nata never che io francamente non sto neanche rilevando più di tanto nel senso che grosso modo le storie tuttora pubblicate di nata never tuttora in pubblicazione diciamo di nata never continuano a soddisfarmi quindi non avverto più di tanto questo declino anche perché non conosco ancora le prime storie in quanto le devo ancora leggere le leggerò in ordine cronologico però si può non si può insomma negare che la comunità nata neveriana sia ancora oggi molto molto corposa ecco io ma credo tanti altri tante altre persone che parlano di nata never su youtube come faccio io che si espongono diciamo parlando di nata never in dei video credo se ne rendano tutti quanti conto ecco che un personaggio che ancora oggi a distanza di 30 anni suscita ancora grande interesse e grande affezione nei confronti dei dei lettori anche dei lettori che hanno ormai abbandonato da tempo la testata quindi ecco questa è una gigantesca introduzione che spero non abbia annoiato più di tanto per mettervi al corrente un po delle mie intenzioni ovvero quella di leggere in cronologicamente le avventure di nata never e parlarne così in maniera molto informale con voi sul canale e poi di ringraziare tutte le persone che mi stanno in qualche modo accompagnando ecco in questo mio percorso in questa mia iniziativa e parliamo di questo numero 1 targato 1991 intitolato agente speciale alfa sceneggiato da antonio serra anche autore del soggetto antonio serra che uno dei padri di nata never lo sappiamo bene assieme a michele medda e bepi vigna e disegnato dallo stratosferico claudio castellini che anche l'autore ovviamente della copertina nonché il copertinista ufficiale per i primi 50 52 numeri o qualcosa del genere di nata never forse un pochino di più se non ricordo bene 52 56 numeri giù di lì nonché anche il creatore grafico di di nata never e io voglio insomma tirare in ballo lazarus led perché è un altro fumetto di fantascienza di cui avevamo parlato nello scorso video questo è il numero uno di lazarus led del 93 qui siamo nel 91 quindi sono fumetti quasi coevi no hanno due anni di distanza ma insomma più o meno l'annata è sempre la stessa e questo stile di disegno di castellini che è uno stile stratosferico stupefacente ma lo sappiamo perché castellini è un grandissimo in molti casi mi ha ricordato un po il disegno che lo stile di disegno che olivares ha operato su lazarus led qui siamo veramente a delle insomma guardate questo questo tratto no operato da olivares questo è il tratto è il volto perdonate di lazarus led secondo me si si assomiglia con lo stile di castellini io vi trovo magari un primo piano ecco to di nata never secondo me c'è un una qualche similitudine così si associano secondo me questi questi due stili questi due tratti anche se ovviamente parliamo di due grandissimi maestri del fumetto insomma da una parte c'è claudio castellini ma dall'altra c'è comunque giancarlo olivares per cui voglio dire siamo su altissimi livelli e sono due e sono entrambi due fumetti di fantascienza due grandissimi numeri 1 nel caso di questo primo numero di nata never questo ho scoperto leggendo in rete che in realtà doveva essere la seconda storia di nata never un po come è successo per la testata di mister noi il primo numero di nata never in realtà doveva essere il monolito nero che poi è uscito come secondo albo della testata che infatti io non l'ho ancora letto disegnato da bonazzi se non vado errato scritto da tutti e tre di sceneggiatori tutti tutti e tre i padri di nata never e non solo serra come questo albo doveva essere l'albo d'esordio questo perché si temeva che castellini il disegnatore di questo numero non riuscisse a terminare in tempo le sue tavole castellini poi riuscì a portare a termine il lavoro e quindi venne pubblicato per primo questo agente speciale alfa che a tutti gli effetti è diventato il primo grande numero di nata never e voglio parlando subito della veste grafica potremmo così dire voglio subito farvi vedere insomma la magnificenza di claudio castellini già solo nel disegnare queste vignette perché insomma voi dovete immaginarvi nel 91 quando ovviamente non c'era ancora la tecnologia tale da poter disegnare in digitale no e quindi da poter non semplificare ma velocizzare il lavoro castellini ha dovuto disegnare insomma a mano potremmo dire tutte queste architetture peraltro inventate no dal momento che si parla di fantascienza quindi non di un qualcosa di di reale diciamo di tangibile ecco per cui pensare che castellini sia riuscito a realizzare queste tavole fantastiche guardate questa splash page no con che reca anche il titolo di questa storia dopo questo prologo che dura una quindicina abbondante di pagine in cui appunto a nata never sfugge questo ricordante di nome climan ed è una splash page è un'immagine veramente strepitosa fantastica che ci indica tutto il meraviglioso talento di questo disegnatore e insomma vi faccio vedere anche solo in questa vignetta disegnare tutta questa 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 architettura questo particolare soffitto è un'impresa quasi titanica ecco per cui questo per dire no che noi molto spesso leggiamo queste vignette nel giro di qualche secondo e poi passiamo oltre ma io immagino quanto i quante ore di lavoro abbiano tirato via realizzare questa singola vignetta e qui in questa in questo in questo numero non c'è una tavola che non risulti interessante ecco tutto il il meglio di castellini che peraltro è alla sua prima e unica prova da quello che ho capito sulla serie regolare di nata never in quanto ne è stato copertinista ma effettivamente disegnatore all'interno degli albi lo è stato soltanto per questo numero ed è un lavoro perfetto guardate anche i character design no potremmo dire dei dei vari personaggi qui c'è questo android chiamato c 09 che risulterà testimone diciamo della vicenda in questione che poi accompagnerà natan nel corso della sua indagine per fermare questo questo ricordante di nome clima che ha che si è fatto impiantare potremmo dire così nel cervello dei dei dati molto pericolosi che potrebbero potrebbero servire per spingere diciamo verso un eventuale ribellione le macchine elettroniche questo clima sta agendo per colto di un un energumero insomma a capo di una setta religiosa con il quale poi nata non giungerà alla fine dell'albo alla resa dei conti finale con questo bellissimo scontro dove castellini esalta tutto il suo dinamismo e questa è un po la la trama potremmo così dire di questo primo numero di di natan never che funge un po secondo me da pretesto per inquadrarci non soltanto le le ambientazioni gli sfondi gli scenari di di questa storia ma secondo me risulta anche perfetto questo primo numero per renderci partecipi potremmo così dire dei dei caratteri dei vari personaggi che qui compaiono un po tutti quanti non soltanto nata never che in questo numero forse ho trovato un po meno infallibile un po più fallibile rispetto ai ai numeri attuali diciamo forse un po più inesperto in alcuni in alcuni punti già solo il fatto che si lasci scappare all'inizio questo ricordante in maniera anche piuttosto così banale no quasi potremmo dire quindi forse ecco un natan never più fallibile rispetto a quello di oggi anche un po più ironico un po più umoristico potremmo così dire soprattutto nei nei suoi scambi di battute con sigmund piuttosto che con legs che ci vengono peraltro presentati anche in quest'albo tra l'altro l'ex weaver che già dal nome ricorda la sigurni weaver dei di alien della saga di alien qui è proprio identica no vedete come castellini la ritrae davvero in maniera veramente simile similare alla grande attrice sigurni weaver poi devo dire che nel corso degli anni forse i disegnatori si distaccheranno un po ecco da da questa somiglianza che qui è veramente palese ma giusto così osservando queste tavole qui tra l'altro compare anche razor e sono delle tavole fantastiche guardate qua il volto di di natan never come rimane da subito impresso ecco già subito da da queste queste pagine iniziali e c'è veramente un uno uno stile di disegno che ancora una volta lo ripeto è infallibile castellini al suo meglio sicuramente quindi è una storia che secondo me risulta anche piuttosto intelligente nel nel darci subito un un'idea ecco di ciò che vedremo di ciò che poi leggeremo in futuro e in questo secondo me si prende un po le distanze da altri numeri uno della sergio bonelli editore come ad esempio tex zagor che sono dei numeri anche mister no volendo che sono dei numeri uno molto più permettetemi il termine semplici nel senso che probabilmente erano dei 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 numeri uno non non studiati no non realizzati con l'idea poi di anticipare delle delle serie a fumetti che poi di fatto sarebbero durate per decenni qui secondo me sembra esserci già uno studio maggiore ecco dietro questa questa prima sceneggiatura dietro la descrizione dei personaggi che nel nel corso di queste pagine andremo effettivamente a conoscere anche questo robot questo c 09 da quello che ho capito da ciò che ho capito ritornerà poi in in alcune storie successive quindi di fatto nata ne lo rincontrerà in futuro bellissima anche l'idea di ristampare in questa ristampa la lettera iniziale di sergio bonelli con la presentazione che sergio bonelli fece nel 1991 e poi al posto della dello spazio che oggi è occupato dalla agenzia alfa in questa introduzione diciamo ci si 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 immagina un articolo del del city news quindi di un giornale locale al servizio di del cittadino parla edward reiser direttore dell'agenzia alfa e attraverso una ovviamente un immaginaria intervista ci viene un po spiegato il ruolo dell'agenzia alfa che di fatto si distacca in parte dal dai servizi di polizia ecco che scopriamo essere anche abbastanza corrotti in questo in questo immaginario futuro in cui si ambienta la la serie di nata neve per cui è efficacissimo anche e ci dà da subito l'idea ecco di di ciò che poi noi andremo effettivamente leggere no perché tutto quanto ruota attorno all'agenzia alfa per la quale nata never lavora ancora una volta vi mostro qualche tavola di claudio castellini volevo farvi vedere ma mi è sfuggita volevo farvi vedere queste bellissime anatomie femminili veramente fantastiche castellini nel disegnare le figure umane è insuperabile e vi voglio mostrare anche l'utilizzo di retini ecco che mi hanno colpito in questo numero sono veramente frequenti i retini che che castellini usa per dare un po più di profondità potremmo dire no ai ai disegni guardate qui ma anche qui qua insomma c'è un utilizzo veramente frequente ecco dei dei retini per separare anche i piani vedete qui come vengono utilizzati per evidenziare la la vetrata e quindi separare i vari piani bene io penso così di avervi detto tutto quello che mi sentivo più che altro di dirvi riguardo a questo primo numero di nata never che è sicuramente bellissimo con questa prima iconica copertina che secondo me non è neanche fra le migliori di castellini a livello grafico però è una copertina che ha fatto che ha fatto la storia ma che si è messa in confronto ecco con altri insomma capolavori che ha fatto castellini perché castellini sonata never ha realizzato veramente dei dei capolavori estremi che vengono ricordati con 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 affetto anche anche oggi nonostante siano cambiati due copertinisti nel frattempo roberto de angelis e sergio giardo attualmente tutte e due bravissimi però castellini insomma l'abbiamo visto già da questi fantastici disegni rimane alquanto insuperabile come come stile come tratto è un qualcosa di meraviglioso insomma guardate anche qua queste composizioni questi chiaroscuri è un qualcosa di letteralmente insuperabile anche se poi nel corso dei dei numeri secondo me vedremo dei dei disegnatori non da meno come stefano casini come nicola mari come germano bonazzi insomma di di grandi disegni secondo me parleremo ancora sulla testata di nata never io vi ringrazio per l'ascolto di questo video che mi sono divertito a girare visto che questo numero mi è piaciuto molto e che sono curioso di leggermi i successivi di cui poi parleremo se volete lasciare un commento un pensiero circa questo primo numero fate pure io sarò curioso di leggere e rispondere a ciò che eventualmente mi scriverete per il resto vi auguro un buon proseguimento e ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti